Inizi da me Oh, sei qui Oh, 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 oh Oh, segui Siamo qui oggi, riuniti Siamo qui Siamo qui Ma siamo qui Aspetta, eh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Venga, non ci vedo Ma forse si ci togliene un mio occhiali Lassano, eh L'ho messa in nome Riconoscete la mia compare Violetta Dorata? Spiegaci un po' che cosa sono questi swatches No, ma, cazzo Così? Posso muonire in questo video? Sai che questo video andrà su YouTube? Swatch, cazzo Dopodiché abbiamo la nostra figa Frasi a Belle, ovvero storie truccate, ma gli hai dato dei nomi ai brufoli e poi abbiamo la Benni che ancora non ha un canale ma che prima o poi glielo faremo a primo, glielo faremo a primo, c'è proprio! Stiamo aspettando che apra l'OVS, siamo state alla Gardena, siamo state dal Limone e da Zui, dove hanno gli smanti a 2 euro, i simple colors a 2 euro e delle come euro rende, e le felpe di Carco Bay, che certo potevamo anche portare così le mostravamo, le mie felpe di Carco Bay, Siamo delle sole evidentemente, possiamo fare il centro del video di macchina, con le felpe di Carco Bay, bellissimo sul piano, ciao!